E Miss Veneto, Daniela Palma, Miss Veneto, Daniela Palma, e la Miss Reganta, 1978, Daniela Palma, Miss Cinema, 1978, Rabona dell'Odate, nata a tre case. Nata a tre case, provincia di Lecce, riceve il titolo di Miss Sicilia, Miss Italia, 1978. Eccola, Miss Italia, 78, incoronata la notte scorsa nella Grande Palera. Si chiama Loren Cristina Mai, ed è arrivata alla finale col titolo di Bella dell'Adriatico. Ha 17 anni, è alta 1,70 m. Il suo trittico di circonferenze, così definisce le misure petto-vita-fianchi, un comunicato del concorso, è 83,61,93. Madri e finaliste sconfitte hanno subito protestato con violenza contro il perdetto. La Miss, dicono, è scarsa di petto. Le escluse si sono dichiarate offese. Per la Neo Miss Italia non è una novità. Anche l'anno scorso arrivò in finale e fu contestata violentamente dalle altre concorrenti. L'accusano di non essere una ragazza per bene, perché indossa bichini piccolissimi. Ieri ci sono state urle e lacrime dietro le quinte. Si è parlato di elezione truccata, di scandalo. C'è stata una conferenza stampa di madri indignate, ma soprattutto deluse. Lo show è finito all'alba. 39 anni che si ripete questa scena e da 195 anni che entro il piano organista. Quindi a questo punto direi anche di cominciare un pochino a rallare, perché? Perché tra un paio di minuti sarà la cazzetta di capito di Santa Maria. Quindi noi muoviamoci pochettino con quel cos'è di moderno. Quello è l'ultimo successo che è il nome di Giavo, 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 Giavo. Grazie a tutti.